Non è tanto sconosciuto perché si è presentato con una credenziale importante, perché Antonello De Piero ha realizzato un disco, ha realizzato una cassetta dal titolo Cuore giallo-rosso, nuovo album per gridare insieme Forza Roma. Ecco, se è presentato così, Gilberto Viti può testimoniare con quale grande affetto io abbia accolto Antonello De Piero, al di là delle battutacce di prima, quindi Antonello ben arrivato, io lo metto qua, poi te lo riprendi quando vai via. Però, che siamo organti. Antonello De Piero per tornare, ma tu sei della Roma per caso? Sono della Roma da quando ero piccolo così. Vabbè, non è una domanda, perché Cuore giallo-rosso lo può scrivere anche un laziale o no? Non penso, io non scriverei mai una canzone. Scusate, scusate, come non è? Stelvio di vedi un po' in terra. Diciamo, in realtà uscivo alla dava. Sì, sì. Vabbè, Antonello. Sono della Roma da sempre, ho scritto una canzone che per la squadra che amo, appunto che difende i colori della città che amo, visto che io amo Roma come nessuna città al mondo. E' quello professionista potrebbe anche scrivere cuore bianco celeste, o no? Certo, non me l'hanno proposto, non mi sono posto il problema perché ho avuto la possibilità di fare, di incidere questo disco, quest'album, con due canzoni che parlano della Roma, che è dedicata appunto alla Roma e altre sei canzoni che poi vertono su altri argomenti. Ho avuto la fortuna di avere anche il centro coordinamento, appunto prima lei ha citato Fausto Iosa, che mi ha regalato questa tessera d'onore molto importante, criticata. Scusa, ma tu vai... Questa disgrazia di Iosa, dove sta Iosa? Perché è un telefono interetto? Vogliamo dire qualche cosa io e gli amici qua? Antonello? No, comunque devo ringraziare pubblicamente sia Iosa, Aldo Sbaffo, tutto il centro coordinamento perché mi hanno dato veramente una mano. Perché è una cosa molto importante. Ma fa che? Come l'hanno fatto? Ma ti sei truccato? No, no, assolutamente. A lui si è truccato. C'è il servizio a Roma che è pronto a partire, allora io chiedo all'amico Gilberto Viti, a Stelvio Cipriani, a Martufello, che è 8-0-1. Antonello De Piero, te la senti di parlare di Lazio oppure dici no per carità? Cuore giallo-rosso, parlo solo della Roma? Io penso che la Lazio con signori e da UEFA, mi associo lui. Senza signori secondo me no, perché io ho visto giocare signori con la nazionale, veramente è stato eccezionale secondo me. Certo, però sicuramente la sconfitta col Cagliari non è sicuramente determinante perché il pallone è rotondo e anzi mi auguro che la Roma possa vincere col Milan in Coppa Italia. E tutto è possibile sicuramente. Proseguiamo il nostro brevissimo giro d'orizio. Siamo in chiusura, Antonello Piero voleva ricordare che farà una serata proprio con Riccardo Modesti, vero Antonello? Riccardo Modesti avrà tralasciato che il 12, dato che io sto iniziando, chiamiamolo mini-tour, non so se posso usare il termine, nei locali di Roma, sarò allo Scarabocchio il 12 marzo, appunto la serata organizzata da Riccardo Modesti, anzi sarete graditi ospiti sicuramente. E allora ti veremo ad applaudire. Certo, e vabbè eventualmente in seguito al Bulli e Pube penso e all'Oxana Du, queste sono le date, sono i prossimi locali. Auguri a Antonello De Piero, io volevo, ci sono due omaggi.